Gare extreme ragazzi, che cazzo è successo non lo so, arriva il checkpoint, questo è l'importante, ok ce l'abbiamo Ciao a tutti ragazzi qua Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GTA 5 Online E siamo qui con noi gare con la rampa, abbiamo la nostra Osiris, prontissimi ragazzi a partire Ci troviamo questa volta all'aeroporto e andiamo subito vai Abbiamo preso il GO, spero non si bughi nulla, tre giri per noi e andiamo Allora ho preso l'Osiris perché era l'autoconsigliata quindi spero faccia insomma il suo dovere grandissimi qui con la spinta Checkpoint preso e andiamo vai che ci siamo, diciamo che non siamo stati travolti dalla massa o quasi dai Allora prendiamo un po' di scia dagli altri giocatori che si scontrano, checkpoint preso vai all'ultimo Sono riuscito ad inserirmi e andiamo continuiamo, qui inizia subito qualcosa, prendi un po' di scia da questo qui Vai 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 vai, il super volo, sorpasso, mamma mia sorpasso su sorpasso ragazzi Io ho sorpassato uno in volo e un altro in volo ha sorpassato me che però, adesso indietro Vai 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 che c'è il macello dietro, corriamo corriamo, corriamo a livelli estremi ragazzi Allora cerchiamo di non spingerci, cioè io ragazzi non spingo nessuna, manocchie non mi spingono prima loro Attenzione guarda quello come cerca di infilarsi, incidente incredibile Andiamo andiamo andiamo, potenza potenza, checkpoint preso Allora tra pochissimo dovremo arrivare a qualcosa, guarda le spinte bastardi venite qui C'è qualcosa, questo è un wallride, eh sì ragazzi c'è un wallride vai segui la guida Andiamo, andiamo vai Osiris, nooo troppo alto, ma qui che cazzo c'è ragazzi Non so c'è tutta una rampa assurda, forse una spirale che dovremmo fare, non ne ho idea Comunque cerchiamo di muoverci e fare tutto Siamo in troppi, siamo veramente in troppi cazzo Quello lagga, ah perché sono salito di nuovo Dai che ci siamo, dai che ci siamo, andiamo Osiris Attenzione il giro, vai vai fai questa specie di spirale Andiamo ragazzi siamo vicinissimi al checkpoint E ci siamo, finalmente ce l'abbiamo fatta Mamma mia è stato un po' complicato perché non riuscivo inizialmente a fare la primissima parte del wallride Poi l'ho fatta e abbiamo completato il tutto Allora ci ritroviamo qui, forse adesso ci sarà subito Ecco qui infatti il secondo giro e andiamo avanti Comunque dal social club, dalla piccola immagine Sembrava che dovessimo entrare dentro un buco assurdo Invece alla fine era, è una spirale Boh vabbè, cosa assurde proprio E ci risiamo per la seconda volta Andiamo vai, seguiamo la guida senza troppa potenza Vai vai vai, è il primo tentativo Andiamo, andiamo Osiris, il giro Guarda quel bastardo, attenzione vai Se ne è andato via l'ultimo Andiamo, 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 andiamo Ok ragazzi, secondo giro, primo tentativo Vai veramente epica come cosa Supera tutto, perfetto Allora adesso dovremo fare il terzo ed ultimo giro No ragazzi, fantastico Questo secondo l'ho fatto al primo tentativo Veramente bellissimo, non me l'aspettavo proprio Pensavo di sbagliare di nuovo come prima Però invece no, ce l'ho fatta Quarta posizione per noi Avanti, tutto per l'ultima volta Prendiamo il checkpoint Vai c'è questo qui, io rallento ragazzi Vai vai, quella sbandata Non so come sia possibile, andiamo, vai Anche qui è il primo tentativo Giriamo l'auto Vai Osiris Incredibile ragazzi Vai 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 Non sbagliare Non sbagliare Non sbagliare Non sbagliare Checkpoint preso No, veramente assurdo Mamma mia Abbiamo recuperato la terza posizione E andiamo ragazzi a concludere Vediamo un po' se ce la facciamo Quello mi supera all'ultimo Con modi assurdi No, vai Terza posizione per noi Veramente fantastico Gli ultimi due giri Li ho fatti sempre il primo tentativo Nel primo invece avevo sbagliato un bel po' I misteri ovviamente incredibili Comunque gara veramente bellissima Adesso ne andremo a fare un'altra Altra gara Adesso abbiamo le sportive Prontissimi ad andare 3, 2, 1 Partiamo subito Abbiamo preso il turbo Allora questa ragazzi è una gara GTA Non abbiamo dei giri da quel che ho visto Bastardi Venite qui Attenzione quella ha preso i razzi Non va bene Vai che li prenda anch'io Perfetto Siamo un po' più tranquilli in questo modo Via, via di qua Oh, aveva sparato i razzi Quelli indietro Mamma mia Assurdo Allora questa dovrebbe essere una mega stella Attenzione Stavo quasi per andare giù Cazzo Questa ragazzi dovrebbe essere una stella Io non voglio rischiare però troppo Spariamo i razzi indietro Vai Uno l'ho ucciso Questo Ma che cazzo è Mi finisce la carcassa di quello sopra Via, 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 via Allora manca l'ultimo checkpoint E poi il traguardo Che cazzo abbiamo già finito No questa gara Questa gara è un po' strana No Dovevo girare a destra Ragazzi non ci ho capito nulla Veramente Dovevo girare a destra Invece Mi sono perso Vai giù, vai giù Buttati Vai, vai, vai Andiamo Abbiamo il turbo Turbo, turbo, turbo Tutto estremo Tutto al massimo ragazzi Tutto al massimo E il checkpoint dov'è? Il checkpoint forse Sì è lì sopra Vai, vai, vai Che poi è il traguardo Andiamo potenza Prendi anche il turbo Vai andiamo Il super salto Concludi Dov'è? Ok ragazzi abbiamo concluso No veramente non ci ho capito Nulla Questa gara Cioè è come se non l'avessi fatta Non so Ragazzi è boh assurdo Comunque il primo percorso Cioè il percorso iniziale Che abbiamo fatto Formava una stella Era difficile da capire però Era effettivamente così Abbiamo ucciso un giocatore Boh Veramente Gara è durata pochissimo E non si è capito nulla Tant'è che ho sbagliato pure strada All'ultimo Mi sono buttato Invece dovevo girare a destra Comunque sì Prima posizione per noi Non male Anche qui comunque Stavo quasi per essere trollato Perché mi era finita La carcassa di quell'auto Esplosa sopra E stavo quasi per andare giù Veramente assurdo È durata veramente poco Però molto molto bella Adesso renderemo a fare un'altra E eccoci ritornati con le super Io ho la Pro Genet 20 Sempre autoconsigliata Allora questa qui ragazzi È un'altra gara GTA Intanto bancarietta La frutta Bus spesa in aria Partiamo subito Allora questa qui è GTA ragazzi E ci sono tanti giri Non dura poco come quella di prima Quindi ci devasteremo proprio al massimo Checkpoint preso Via via di qui Via di qui il macello Mamma mia Armi abilitate Subito prendiamo qualcosa Oh merda c'è la curva Che non promette bene Scappiamo 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 Prima di saltare in aria Attenzione bomba adesiva Piazzato Che uno è morto La mia auto va a fuoco Andiamo Prendiamo qui qualcosa Ragazzi scappiamo No niente Ho sbagliato tutto Completamente Vai ci li siamo Ci li siamo Facciamo questa parte assurda Che cazzo si è buggato tutto Vai ci siamo ancora Ci siamo ancora Altro wall ride Mamma mia Gare estreme ragazzi Che cazzo è successo Non lo so Arriva il checkpoint Questo è l'importante Ok ce l'abbiamo Mamma mia Sono finito sopra uno Allora c'è gente Quello che cazzo facevo Con la zentorno Non si sa Boh giocatori misteriosi Così a caso Ecco sono esploso Con qualche mina Va benissimo Vabbè l'importante È che abbiamo preso Il primo checkpoint O che comunque Abbiamo completato Insomma La rampa per la prima volta Perché mi sembrava Veramente un po' impossibile Comunque C'è gente dietro Piazziamo subito una bomba E boom Salta in aria Esploso Ma che cazzo è Non è morto Com'è possibile ragazzi Com'è possibile Che quel giocatore lì Non sia morto Comunque siamo al secondo giro Muoviamoci Altra bomba Salta in aria Niente mi cambia la radio Allora il gioco è bastardo Via scappiamo Qui intanto auto esplose Con sportelli aperti Vai vai che ci risiamo Ci risiamo Ci risiamo Potenza 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 Rifacciamo ragazzi Qui il tutto Vai Water ride Che poi questo non è proprio Un water ride Però comunque vai vai Andiamo 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 vai Perfetto progen Non sbagliare ora Tensione cose assurde Vai che ci siamo Arriva il checkpoint Come prima Come prima Ok Diciamo che quest'ultima parte Non la facciamo proprio Alla perfezione Però l'importante ragazzi È farla Quello è morto Perfetto Ne uccisi due Come è fatto Ah forse c'erano due giocatori Nello stesso punto E che cazzo stavano facendo Quelli lì Boh non ho idea Comunque continuiamo La nostra gara Attenzione C'è anche la polizia C'è anche la fottutissima polizia Terzo giro Oh merda Qui ragazzi C'è veramente il macello Polizia Giocatori che volano Guardate un po' Volano mille auto Alcuni si suicidano Qui c'è la polizia Via scappiamo Non facciamoci prendere Vabbè che noi abbiamo due stelline Non è tantissimo Che cazzo fa questo Ah quello era un poliziotto Ragazzi No mi hanno ucciso Ho investito ragazzi Un poliziotto Pensavo fosse un giocatore Ho detto Lo investiamo per forza Invece no Poteva anche evitare di farlo Almeno Forse avrei fatto la rampa Non lo so Comunque andiamo Vai 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 Potenza potenza C'è uno collazzo intorno davanti Avevo preso un po' di show Sbattuto Lì andiamo Vai che ce l'abbiamo Lo stesso Mamma mia Recupera assurdo Vai giriamo l'auto No neanche l'ultima parte Sono riuscito a fare bene Però niente Abbiamo preso il checkpoint Questo è l'importante Ma siamo esplosi Comunque gara Veramente devastante Allora io Ma che cazzo era Comparso qualcuno Vabbè prendiamo subito Le bombe adesiva E bomba 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 Salta in aria E boom E' morto No vabbè Spiegatemi come ha fatto quello lì A non morire Veramente Non ci sono spiegazioni ragazzi Questo è un fottuto mistero Comunque Siamo in terza posizione Dalla fine è andata Piuttosto bene Dai 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 Andiamo Qui prendiamo l'altro checkpoint Vabbè a questo punto Posso anche piazzare delle mine Il primo gioco concluso Siamo in terza posizione Il che non è male Andiamo dai Piazziamo di tutto Attenzione Uh quello lì Forse aveva piazzato qualcosa Non lo so Non ho idea Comunque io riprendo Le mie bombe adesive Che tanto è me ragazzi Ah ok Uno è saltato Perfetto Uno è saltato Lì forse c'è altra gente Che sta arrivando Andiamo Piazziamo tutto ragazzi Vai vai esplodi Esplodi Boom Mamma mia È arrivato quello esploso ragazzi Quello disintegrato Proprio Non so C'erano mine Bombe adesive Quello è proprio saltato in aria Di prepotenza Comunque abbiamo concluso Terza posizione per noi Veramente una bella gara Tre giri Ed è durata Anche pochissimo Devo dire Cioè non abbiamo mai sbagliato nulla Soltanto proprio all'inizio Ho sbagliato qualcosa Dato che ero distratto Che c'era il massacro più totale Però comunque sia Insomma alla fine ce l'abbiamo fatta Ragazzi che dire Abbiamo giocato tre gare Molto belle come al solito È un po' strane Devo dire Un po' strane Però sicuramente devastanti È bellissima Qui è Dexta Lasciate un bel mi piace E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao Grazie per la visione!